Ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, ben tornare nel canale e benvenuti in un nuovo video. Siamo per fare un mega unboxing di Urban Bags, un'azienda di borse che abbiamo scoperto su Instagram e ormai siamo clienti fidelissime e adesso spacchetteremo insieme. Ci scusiamo se vedrete i riflessi dei nostri occhiali, ma abbiamo provato a registrare senza occhiali e siamo 12 cari, cioè quindi la ring light che avremo costantemente negli occhiali. Comunque in qualche modo ci riuscite a vedere, forse. L'ho costretta praticamente, non volevo, non tornava su YouTube da un bel po' di tempo, perché ho fatto due video, si vergognava, però l'ho convinta. Vediamo quello che ne uscirà fuori. E niente, siamo abbastanza curiosi, vediamo. Perché ancora non abbiamo aperto niente, quindi spacchettiamo. Ah, comunque devo raccontare una storia. Non dico non la storia, le togli perché basta, veramente. Allora, praticamente, mi prese per recuperare questo pacco, perché è un corriere un po' fuso. Lasciamo stare, non vi racconto nel dettaglio. Comunque ho vinto io, perché mi volevamo insegnare il pacco lunedì, in quanto non avevo risposto il telefono, non l'avendo riconato. E quindi l'avevo raggiunto io, e se n'era andato, vediamo che mi sento io, sarei silenzio. E sono riuscita a vincere, ovviamente il mio parco. Perché dobbiamo fare questo video assolutamente oggi, quindi... E poi la curiosità è da troppo. E infatti, quindi non potevamo aspettare lunedì. Comunque, detto questo, iniziamo a spacchettare. Io che sono un assassino. Io? E tu? Io ogni volta che apro un pacco mi faccio male, quindi vuoi che mi faccia male, vabbè? Certo, logico. Aspetta, prima che succedano cose di cui non voglio avere nessuna responsabilità. Le unghie di un po' poco. Prego. La delicatezza che abbiamo. Spettacolo, già quello che ho visto. Già, lo abbiamo. Allora, intanto vogliamo ringraziare Urban Bags, perché sono veramente super efficienti, super disponibili. E' sempre super gentile. Esatto. Ah, io lo accoggerai a terra. Io lo trovo di come l'ho vista. E' già di sicurezza in lano. E' una faccia piace questa. Vabbè, è bellissimo, ragazze. No, vabbè. Voi no. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa. Allora, è bellissima. Che copri la... Vabbè, è troppo bella in corso. Allora, è un mega pacco. Non sono tutte nostre. Quindi due sono di Alma. Vabbè, decidiamo. Due sono di mia zia. E poi effettivamente la nostra è una. Ed è uguale. Ed è bellissima. E l'abbiamo in tre viste. Ed è, secondo me, è più grande. Ed è ancora... Non lo so. Ok, va bene. Allora, noi siamo pazze per le borse. L'avete capito ormai? Quindi per niente ne abbiamo una grande collezione. Qualche volta dovremmo fare un video in collaborazione. Tipo un video... La mia nostra collezione di borse. Penso che ci vuole un tipo un tier per portare tutte le nostre borse. Però ce la faccio. Vediamo se qualcuno è interessante volendo. E cosa? C'è questa cosa bellissima che io la voglio. Vabbè. Ad un'amica ci può mai dire di no? Ecco, quindi. Guarda che carina la borsa. Io queste qua le uso un sacco e mi porto le cose di andrì. Vado alla posta a fare le cose. Alla posta. Perché sono una vecchia. Normale. Allora, che bellina. Già solo questa è bellina. Poi ce l'ha messa e i pensi romanzo. È bellissimo. Fantastico. Yeah, grazie. Ok, grazie mio. Deciso. Allora, io direi di aprire prima le altre la nostra lacrime. Esatto. Queste qua sono di Alma. Quindi Alma stiamo usando le due borse. Le stiamo facendo vedere a tutti. Allora. Ok. Queste borse li possono anche personalizzare. Se volete potete appunto mettere le vostre iniziali, il vostro nome, una lettera soltanto. Oppure prenderle singolarmente. Come è stato fatto questa volta, diciamo. Ecco. Questa qui è quella che ha preso Alma. Io ce l'ho pure celeste. È veramente bellissimo. Vediamo che riesco senza... Vabbè. Si può fare anche più grande. Però non gliela voglio rovinare. Non gliela voglio toccare. La veloce vedere così. Si può diventare anche più grande comunque la tracolla. Ti ho messo la tracolla. È bellissima. Guardate qua. Bella. Questa qua si chiama Ancona. Ed è costata 10 euro. Fai vedere tu l'altra. Questa è diciamo molto simile. È un pochino forse più strettina che dici sì. Si forse è un po' più stretta. Bellina. Anche questa molto molto carina. Questa qua si chiama Sardegna. Esatto. Questa 10 euro. Non è la sua memoria. Esatto. Di quanto riguardiamo. E anche questa si può regolare. Mi aspetto un momento. Quindi stiamo facendo vedere questa qui. Molto carina. È più sottile. Ecco diciamo di qua. Sì. È così. All'interno. Vediamo sì. Ma che carina. È davvero. Sembra di piacere un sacco. Bello. Ok. Quindi queste qua sono di Alma. Ok. Le riusciamo. Sì. Tutte comunque con la loro da stelle. Questa qui. Mh no. Aspettate. Pure questa è bella. È bella. È bella. È bellissima. Allora questa qui vogliamo prenderla Lilla però era terminata. Sì. Purtroppo sì. Però mi sa che è forse è stata una fortuna perché. E' bellissima. È bellissima. Sì. Peccato che però non è sua. Esatto. Che vediamo. Vediamo. Bella. È bellissima. Sinceramente è stupenda. Bellissima. Ma poi queste qua sono super cambianti. È bellissima. Poi è morbida. Bella bella. Sì ragazzi per quello che costano. Sono fatte davvero bene e poi super rifinite. È bellissima. Comunque mi si trovano in giro. Esatto. È vero. Allora è vero. Vi lasciamo di no. Qua la pagina. In qualche posto. Non so qua 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 qua. Da qualche parte insomma. Ok questa qua è gigante. Gigante. Ed è molto bella. È oro rosa. Bella. Bella pure questa. Questa qua 5 euro. 5 euro. Cioè bellissima. Allora. Super spaziosa. È bellissima. Bella 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 bella. Poi dentro è rossa. Vabbè bellissima. Ecco che bella teme. Bella bella bella. La super tragolla. Quel sentino e poi l'idea c'è pure questa. Cioè 5 euro. 5 euro. 5 euro. Vabbè. Andiamo avanti. Ah dobbiamo dire prima di far vedere il pezzo forte che è in dotazione. È bella bella. Grazie. Però diciamo cosa c'è scritto. Leggi tu dai. Magnifico. Allora questo è il piccolo pensiere per combattere insieme il covid. Andrà tutto bene. Pediamo tutti voi una famiglia e la famiglia va aiutata. Vabbè è un simbolo bellino. Molto... Il pezzo forte Va bene, vai Non riesco Non riesco a prenderla Ferino con i miei contatti E il sito che è questo Questa e l'altra sono uguali Quindi magari me ne facciamo vedere una intanto Pronti, rullo di tamburi La mia obiettiva è uguale È fantastica Questa è l'idea che l'ho testata Ha il taschino pure dietro Wow, bellissimo Ha pure il pulsante È bellissimo Che carino, visto? Spettacolo Poi è lilla, bellina Super super bella Bellissimo Tante cose dentro Domani la usiamo Ha pure la cerniera Ed è comunque un colore diverso dal solido Esatto E dato che ce l'abbiamo in tutti i colori Non poteva mancare questo Aspettate Ok Quindi si può mettere sia Così Ok, già bellissimo Oppure a tragolla A posto Ok Così Oddio Stavo guardando Così Wow Bellissimo Come grandezza Non è neanche Non è neanche Piccola Cioè pensiamo Se più piccola Esatto Sì È la giusta misura È la giusta parola Comunque Cioè No è bellissima Molto bello Molto bello Sono contenta Davvero meravigliosa Si può Si può essere così pazze per le borse Sì Perché non lo siamo Quindi vuol dire che c'è possibilità Va bene Detto questo Inutile farvi vedere anche l'altra Perché appunto è uguale Però Però Ora la spaghettiamo Speriamo Speriamo che questo video vi sia piaciuto E vi abbia intrattenuto un pochino Esatto E se siete interessati Andate a contattarli Andate a vedere la pagina Il sito Perché hanno veramente tantissime Tantissime cose Tantissime borse Accessori E Dove ne andare A prezzi molto accessibili Accessibili Certo 5 euro Ok Va bene Detto questo Vi salutiamo Grazie per aver seguito il video Lasciate un like se il video vi è piaciuto Non lasciate il pollice in giù Perché è brutto Non lo so Esatto Quindi non ce lo lasciate quello Se non vi piace chiudete il video Voi lo guardate Esatto Certo Fateci sapere qual è la vostra preferita E andrete ad acquistare Fatecelo sapere perché Siamo curiose Esatto E niente Vasta Un bacio Ciao